Il futuro del nuovo Avellino è tutto un punto interrogativo. Giocherà o meno in Coppa Italia il prossimo 26 agosto contro il Nola, visto che è stato chiesto il rinvio. E soprattutto, dove sarà giocata questa partita? Lo stadio parteneo Lombardi è ancora, secondo quanto stabilito dalla convenzione firmata il 12 luglio del 2013 con il Comune, gestito dall'US Avellino di Walter Taccone in modo esclusivo. Proprio lo stesso Taccone, qualche giorno fa, attraverso una lettera indirizzata al sindaco Vincenzo Ciampi, ha fatto sapere di essere pronto a concedere, incomodato d'uso gratuito, l'impianto di via zuccolare alla nuova società di De Cesare, a patto di vedersi rimborsate le spese vive. La missiva però non è mai pervenuta a Palazzo di Città, almeno fino a questa mattina, ma le idee del dirigente al patrimonio Luigi Cicalese sono chiarissime e il modus operandi pure. La questione dello stadio parteneo Lombardi infatti prevede da un lato il rispetto della scadenza del 31 ottobre prossimo, data nella quale il Comune di Avellino dovrà pagare 523.000 euro relativi ai lavori realizzati dal club bianco-verde negli anni scorsi. E lo stesso club, invece, sempre il 31 ottobre, dovrà versare la prima rata, prevista da un piano di rateizzo, anche questo sconosciuto, degli 811.000 euro che deve all'amministrazione comunale per i canoni arretrati. Ma i canoni relativi alla nuova stagione 2018-2019 devono essere invece pagati da Walter Taccone in modo immediato. Se dunque le due mensilità di luglio e agosto entrambe dovevano essere state già assaldate, visto che la scadenza è a metà mese, non saranno state onorate, difficile che sia successo proprio ora, Taccone infatti non ha mai cacciato un euro, il Comune di Avellino procederà alla diffida e alla decisione immediata del contratto per l'utilizzo dello stadio Partenio Lombardi. Gli uffici chiusi non permettono una verifica immediata, ma al massimo entro lunedì il quadro sarà chiaro, chiarissimo, e la parola fine tra l'US Avellino e il Comune sarà messa una volta per tutte.